Stiamo per ascoltare i canti dei bambini che rappresentano di gran lunga la migliore introduzione possibile alle festività natalizie, che a loro modo conservano sempre una magia della quale abbiamo tutti bisogno, particolarmente di questi tempi. Stiamo per accendere tutti insieme l'albero di Natale principale della città, idealmente tutti gli altri alberi della città e tutte le luci di tutta la città. Grazie di cuore a tutti voi, buone festività natalizie, viva i bambini e viva Pistoia! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!